caro Giancarlo buongiorno come stai bene grazie benvenuto a questa edizione speciale del corso di edizioni online di Caruso speaker perché oggi ci dedichiamo al doppiaggio con te stiamo facendo un percorso molto professionale e questo perché la tua aspirazione è quella di lavorare come speaker come attore doppiatore e quindi ci stiamo specializzando oggi soprattutto nel doppiaggio quindi sarà una vera e propria lezione che fa parte poi anche del corso di doppiaggio online di Caruso speaker e oggi cominciamo introducendo questo argomento bene la storia del doppiaggio è molto lunga da raccontare basti ricordare comunque che noi siamo la scuola più importante del doppiaggio al mondo comunque universalmente riconosciuta e questo per un motivo molto semplice che abbiamo cominciato prima degli altri a doppiare i film e poi perché purtroppo siamo un po ignoranti in inglese quindi senza senza avere il la traduzione il dialogo in italiano siamo poco in grado di seguire adesso nella nuova generazione e con netflix con queste nuove piattaforme è possibile seguire è più facile commutare quindi scegliere un una lingua piuttosto che un'altra e quindi molti ascoltano a in lingua originale con i sottotitoli in italiano però la stragrande maggioranza delle persone preferisce il doppiaggio questo ci differenzia dagli altri paesi per esempio i paesi dell'europa dell'est sono molto più avvezzi a conoscere l'inglese e in generale tutte le popolazioni europee sono più bravi in inglese rispetto a noi proprio perché sono costretti a ascoltare questi prodotti in lingua originale con i sottotitoli veniamo a noi adesso il doppiaggio si differenzia da quello che abbiamo già fatto gli over sound dei documentari abbiamo dedicato un paio di lezioni a come si legge un documentario come narratore come voce fuori campo e anche come over sound e ti ricorderai che per poter fare questi documentari in simil sync ciò significa che tu devi abbinare la tua voce al personaggio soprattutto che si vede in campo dovrai cercare il più possibile di rimanere in quel range di durata cercare di simil sync quindi di seguire il personaggio soprattutto rispettando le pause perché non è un adattamento a sync cioè sillaba per sillaba e quindi c'è la corrispondenza del labiale nel documentario è richiesta una una similitudine una somiglianza un avvicinamento al doppiaggio rispettando soprattutto le pause adesso invece entriamo nel mondo straordinario del doppiaggio in cui dobbiamo invece soffermarci sul sul sync labiale quindi dobbiamo concentrarci su più fattori quindi diventa più complicato adesso il gioco perché se nel documentario ti puoi esercitare soprattutto sulla tua voce e poi rilassarti cioè rilassarti no perché comunque devi seguire sempre il personaggio però è meno difficile invece adesso devi andare proprio a sync e e devi al tempo stesso restituire delle emozioni mentre nei documentari le emozioni sono un po più finte cioè meno meno emozionali non è richiesta a una particolare emotività o partecipazione emozionale invece nel caso del doppiaggio l'attore c'è un attore vero e proprio e quindi questo attore esprime delle emozioni degli stati d'animo e noi dobbiamo restituirli quindi è certamente un'operazione molto molto difficile perciò sono due i fattori da prendere in considerazione sync barra emozione secondo te che cosa è più importante il sync o l'emozione c'è un importanza c'è un grado di importanza su queste due cose secondo me sì l'emozione fra le due l'emozione quindi emozione attraverso l'uso della voce e quindi attraverso il volume attraverso l'intonazione attraverso il tempo attraverso il ritmo e anche il sorriso se è necessario oppure no quindi torniamo nel discorso dei colori della voce che noi non so se abbiamo approntato e quindi ti ricordi quelle sfumature quelle timbriche però noi abbiamo fatto insieme anche vari monologhi cinematografici in cui abbiamo imparato attraverso ciascun monologo ad esprimere un'emozione quindi già sei un po' preparato da questo punto di vista ora cominciamo con una cosa un po' semplice però attenzione sembra semplice sembra semplice perché la durata è breve tu all'inizio deve esercitarti su cose brevi perché non sei ancora pronto per fare cose più lunghe perché rimarresti indietro rispetto al sync come si fa a beccare il sync e sia e soprattutto una questione di tecnica e questa tecnica è commisurata poi la tua capacità di articolazione quindi poi dobbiamo dobbiamo vedere un po di esercitarci anche sull'articolazione ritmica quindi ricordami questo tema ok articolazione ritmica velocità nel ritmo è un capitolo importante che dobbiamo sì sì certo adesso però voglio farti entrare nel vivo di una scena hai visto il film di tom cruise di qualche anno fa ne sono passati diversi jerry maguire no non l'ho visto jerry maguire è un film molto bello dal mio punto di vista fu anche candidato all'oscar come migliore sceneggiatura ed è la storia di questo procuratore sportivo interpretato da jerry maguire da tom cruise si chiama jerry maguire e questo procuratore sportivo è molto vive in un mondo molto competitivo molto cinico perché comunque la sua professione è quella di accaparrarsi dei dei mandati delle delle procure da parte di giocatori di rugby che sono come calciatori nostri molto quotati e quindi girano svariati milioni di dollari per questi contratti e quindi lui deve rappresentare questi giocatori ora lui si trova in difficoltà perché da che apparteneva ad una grande società poi se ne va perché non si trova in linea con questo si vuole mettere in proprio ma si trova in grosse difficoltà perché mentre prima gestiva più giocatori adesso ne gestisce solo uno e quindi succederanno varie cose tra cui cosa importante lui avrà una storia d'amore con una donna che diventerà sempre più importante per lui e che è interpretata da rene zelweger quella di il diario di bridget jones questa storia un po combattuta nel senso che lei lo ama profondamente lui diciamo sta con lei perché lei lo ha seguito in questa impresa che lui voleva mettersi in proprio non è innamorato di lei però comunque ci sta insieme perché lei ha bisogno di lui anche lui ha bisogno di un supporto però durante questo percorso del succederanno varie cose lui cambierà e quindi capirà di essere profondamente innamorato di questa donna e questo succederà in corrispondenza del finale infatti noi affronteremo quindi un una scena molto complicata dal punto di vista emozionale perché adesso tu a freddo dovrai trasferire tutta una serie di emozioni in questa scena in cui lui fa una delle più belle dichiarazioni d'amore che in generale vengono poi ricercate su internet è una delle delle scene più intense da questo punto di vista perché lui arriva nel bel mezzo di una riunione femminista perché tutte donne separate che si riuniscono tra di loro per parlare male delle loro storie passate lui arriva in questo nido di vespe e quindi praticamente poi deve non ce la fa più insomma deve manifestare questi suoi sentimenti penso un po come sono belli questi film e quanto è lontano la realtà e quindi lui a un certo punto dice queste cose dice appunto di aver capito questa cosa e dirà tu mi completi quindi dirà grazie a te io mi sento un tutt'uno quindi la parte che mi manca viene integrata da te tu mi completi questo è il titolo della della scena diciamo e la cercherai anche su internet così tu mi completi ma qual è la difficoltà per te è che tu il film non l'hai visto ma non è che non l'hai visto tu perché non l'hai visto perché è andato nei cinema non ci sei andato perché tu doppiatore comunque non hai visto tutto il film quindi che succede ti troverai a doppiare delle scene messe un po per il mezzo e che quindi non ti consentiranno di maturare questi sentimenti cioè se il film è fatto da un direttore del doppiaggio che segue questa logica dovrebbe cominciare dall'inizio non sempre succede questo ovviamente se sei un protagonista è meglio è auspicabile fare ciò perché comunque i vari gradi emozionali i vari step tu li possa seguire in maniera più coerente però all'inizio non farai protagonisti farai all'improvviso ti dicono giancarlo anello 29 lui si trova a un certo punto spaisato perché è innamorato non ce la fa più e manifesta il suo amore alla sua donna e tu dici oddio ma all'improvviso devo essere innamorato stamattina mi giravano le scatole ho perso l'autobus il treno c'è la pioggia sotto su entrato tutto tutto così ma all'improvviso mi devo vestire nei panni eleganti di un uomo che apre il suo cuore e si manifesta i propri sentimenti e questo già è un esercizio perché tu a freddo devi fare questo ok adesso io ti faccio vedere la scena da doppiare ti ricordo una cosa importante quando tu ti trovi in sala di doppiaggio la prima cosa che ti che ti troverai davanti sarà il testo e tu dagli una piccola occhiata al testo quindi ruba un po' di tempo leggendoti un po' il testo però attenzione che poi quelli sono veloci e ti e ti dicono allora lo vediamo insieme l'anello ma che succede quando tu vedi l'anello sei portato a concentrarti soprattutto sul testo e perdi di vista l'anello l'interpretazione del personaggio invece devi cercare di bilanciare le cose anzi seguirà il testo davanti a te ma soprattutto dovrai cogliere le sfumature cioè dovrai capire come l'attore interpreta il testo perché tu leggendo il testo lo interpreteresti un po' per conto tuo ti ha detto sei innamorato e vabbè però ognuno è innamorato a modo suo invece tu lo devi fare come lo fa lui quindi attenzione nella prima nella prima nel primo ascolto dovrai cogliere l'emozione nel secondo ascolto invece potrai sperimentare la tecnica cioè abbinare le parole in maniera emozionale ma ancora non non trasferirai quell'emozione faccia fai una prova un po più tecnica cioè provi la a leggere quella frase a sync con il protagonista e ti segnerai le pause e capirai un po dove accelerare di più dove decelerare poi la terza prova si dice facciamo una prova sul muto quindi specifico meglio nelle prime due prove tu hai una prova sonora quindi tu senti in sala il l'audio originale del film lo senti in sala poi ti dico facciamo una prova sul muto e tu sentirai l'originale soltanto nella tua cuffia che attenzione non è una cuffia stereo come questa ma è una monocuffia perché da una da un orecchio tu devi ascoltare l'originale dall'altro orecchio invece devi ascoltare la tua voce per bilanciare le due modalità nella prova sul muto qua devi già cominciare a tirare fuori emozione e tecnica quindi devi fondere entrambe le caratteristiche che fanno del doppiaggio un elemento fondamentale allora cosa succede succede che alla prima prova sul muto le cose possono andare subito bene oppure possono comunque hai bisogno di più tempo per maturare questa cosa e puoi chiedere dice alla fine del del muto dice posso rivederla e va bene e te la fanno rivedere tutto questo attenzione purtroppo non è un'operazione che si sviluppa sempre in questo modo questa sarebbe la sequenza corretta e ce la si può permettere soprattutto per un film dove c'è una maggiore attenzione quando farai dei documentari quando fai delle cose diciamo più come si dice a napoli shue shue cioè più veloci non hai tutto questo tempo capito quindi l'abilità sei apprezzato dall'altra parte soprattutto nella velocità di esecuzione però all'inizio è così va bene ora io ti farò vedere questa scena doppiata in italiano quindi hai già un grosso vantaggio perché senti come l'hanno doppiata in italiano cosa che in sala non ascolterai naturalmente sentirai soltanto l'originale ma io come prima lezione ti faccio sentire l'italiano poi dopo ti faccio sentire in inglese però ti do un aiuto perché ti metto in sovrimpressione il testo che tu dovrai leggere ok d'accordo ora questo testo che tu devi leggere lo troverai in sovrimpressione anche con le tempistiche giuste cioè quando compare la frase la devi dire quando sparisce la devi la devi passare ad altro un po come se fosse il karaoke sì ok quindi sei molto facilitato perché invece in una situazione normale avresti soltanto l'originale e poi devi tu essere bravo a leggere il testo guardare guardare tornare sul testo e prendere il sync perciò è un discorso tecnico però adesso cominciamo soft va bene ok allora condivido con te la clip e ti faccio sentire la vedi sì ok allora vediamo se l'audio dovrebbe esserci e e ti faccio sentire l'italiano il doppiato ok vado viviamo in un mondo cinico un mondo cinico e lavoriamo in un ambiente di persone fortemente competitive io ti amo tu tu mi completi e io dovevo proprio smettila sta zitto mi avevi già convinto al ciao mi avevi già convinto al ciao ok questa è la scena in italiano è riuscito ad ascoltarla vuoi rivedere sempre va bene vabbè adesso non ti preoccupiamo adesso non è che dobbiamo stiamo cercando di capire no ok stai tranquillo viviamo in un mondo cinico un mondo cinico e lavoriamo in un ambiente di persone fortemente competitive io ti amo tu tu mi completi e io dovevo proprio smettila sta zitto mi avevi già convinto al ciao mi avevi già convinto al ciao ok è finita la scienza in cui sono stata siamo d'accordo dimmi dimmi sì sì d'accordo perfetto allora l'atmosfera l'hai capita no dove sta l'altro domande tutto chiaro sì aspetta che ti devo prendere la parte l'ho preparato ora sentirai l'originale in inglese ok benissimo ora condivido con te la clip e la sentiamo l'originale allora il la tua il tuo lavoro del doppiaggio comincia adesso tu hai avuto diciamo un vantaggio ma adesso come se tu no ma adesso Giancarlo entri in sala ciao Giancarlo sì ciao senti vai all'anello 29 allora lo vediamo eh sì lo vediamo perché non è che vediamo no perché a volte c'è beh facciamolo quando sono i cartoni animati non lo vedi neanche ok vediamolo te lo mando sì va bene cosa fai adesso lo ascolti per cogliere le emozioni e capire lui come lo fa ascolta bene la voce questo è in sala lo senti in audio in sala vi live in a cynical world a cynical world and we work in a business of tough competitors i love you you complete me and i just had just shut up you had me at hello you had me at hello e vabbè che se ho film e poi in realtà è tutta una cosa che purtroppo ci sono persone che quando dici io ti amo ti dicono non me ne frego un cazzo ti dico per esperienze personali allora detto ciò facciamo facciamo una prova allora adesso puoi scegliere vabbè facciamo adesso facciamo tutte le cose semplici Giancarlo lo vuoi rivedere? sì rivediamolo ok? va bene e rivediamo we live in a cynical world a cynical world and we work in a business of tough competitors i love you i love you complete me just just shut up just shut up just shut up you had me at hello you had me at hello ok sufficiente ok vabbè adesso facciamo tu cosa hai fatto adesso hai dato importanza alla recitazione o hai seguito anche un po il testo sotto ho seguito anche un po il testo sotto va bene allora vogliamo fare una prova sul muto proviamo ok non è una prova incisa una prova sul muto serve a te per prendere un po i tempi e anche per trasferire un po di emozioni va bene ok ok e direttore del doppiaggio ti dice qualcosina c'è da dirtelo viviamo in un mondo cinico un mondo cinico lavoriamo in un ambiente di persone fortemente competitive io ti amo tu tu mi completi io dovevo proprio ok e va bene quindi c'è lei e l'abbiamo l'abbiamo risolto anche se poi vedi c'è un fiato che lui sia perché pur i fiati sono importanti qua nel doppiaggio ok allora facciamo una cosa sentiamo di nuovo viviamo in un mondo viviamo in un mondo cinico un mondo cinico allora riguarda lo sguardo lui com'è viviamo sta per prendere le parole sentiamo guarda rispetto al doppiaggio che quando noi facciamo il doppiaggio siamo molto vicino al microfono e quindi la nostra voce è più presente però senti l'originale la voce è più è più flebile però è più intensa senti un po ok quindi perciò a bocca stretta quasi quasi sta cercando le parole e quindi dobbiamo cercare di restituire questo questa situazione vuoi fare fammi sentire soltanto una prova viviamo in un mondo cinico viviamo ancora di meno viviamo in un mondo cinico viviamo in un mondo cinico sì bravo un mondo cinico bravo ok e questa l'abbiamo poi andiamo avanti prova a fare questa prova a firmela così lavoriamo in un ambiente di persone fortemente competitive allora secondo me è troppa voce ma sentiamo lui com'è senti bene ok a aumenta di più il volume ma non troppo poi diventa tutta nata storia nel senso che lui scende ancora di più con la voce dice quasi sussurrato io ti amo è anche difficile immaginare che lei l'abbia sentito a questa distanza va bene allora come lo faresti questo qua e lavoriamo in un ambiente di persone fortemente competitive lavoriamo in un ambiente di persone fortemente no allora e lavoriamo in un allora innanzitutto scusami Gianca tu stai posizionato così perché c'è il c'è il c'è il tablet il computer basso perché stai con la testa bassa no 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 sto così ma non lo schermo davanti non ti ho notato allora devi stare con la testa bassa la tua voce deve uscire pulita microfono alzatelo un po forse quello è il problema ok perfetto altra cosa importante aiutati con le mani dai un movimento dai un incedere dai un ritmo ok quando vuoi lavoriamo in un ambiente di persone fortemente competitive e lavoriamo in un ambiente di persone fortemente competitive e lavoriamo in un ambiente di persone fortemente competitive riprova lavoriamo in un ambiente di persone fortemente competitive va bene va bene ok proviamo a farla ok viviamo in un mondo cinico un mondo cinico scusami allora aspetta però viviamo in un mondo cinico mondo cinico mondo cinico tu hai fatto un mondo cinico il primo invece lo devi legare sì esatto per quello mi sono fermato tranquillo vabbè tu non ti ferma mai vai sempre avanti fino a quando non ti interrompono perché tu ogni volta anche se sbagli è un modo per fare per capire meglio l'anello se non ti interrompono non ti ferma va bene vai avanti frega te ne sbagliava bene ma non viviamo in un mondo cinico un mondo cinico lavoriamo in un ambiente di persone fortemente competitive ok va bene il sync c'era abbastanza è molto difficile fare sta roba qua tecnica a distanza perché comunque c'è una differenza eccetera però adesso questo corso di doppiaggio online è per capire la tecnica di base è chiaro che per specializzarsi bisogna fare in sala va bene però comunque entriamo in sala che già sappiamo l'abc ti trovi non andiamo proprio lì a zero ok allora ti voglio chiedere questo giancarlo adesso io mi trasformo nel direttore del doppiaggio rompi coglioni perché ne troverai tanti allora ti dico guarda giancarlo diciamo che come emissione di voce come cosa l'intonazione e vabbò però siccome tu sei hai una voce bella profonda invece tom cruise ha una voce un po più esile un po più leggera ti potresti alleggerire di più questo termine giusto ti potresti alleggerire di più ok ci provo bene proviamo a fare una versione più alleggerita più leggera vado abbiamo in un mondo cinico un mondo cinico e lavoriamo in un ambiente di persone fortemente competitive ok allora la leggerezza ci siamo però era un po finta giusto ti trovi perché ma la difficoltà qual è è che non è la tua voce esattamente naturale e quindi si si complicano le cose viviamo in un mondo cinico un mondo cinico e lavoriamo in un ambiente di persone fortemente competitive bravo vai avanti adesso provo a fare io ti amo io ti amo io tu 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 mi completi ma io volevo proprio sta zitto non è già convinto al ciao ok perfetto va bene sì mi sembra che ci siamo ci stiamo avvicinando domande commenti fammi li tuoi commenti vediamo cosa cosa dici com'era cosa c'era guarda ci stiamo siamo molto l'abbiamo stiamo indovinando la leggerezza perché ora ho per esempio ho alzato il tono un pochettino quindi ho fatto una voce un po più giovane forse va bene e alzando il tono secondo me riesco a modulare la voce anche di più quello che ho notato io che devi fare quindi devi prendere più respiro quindi andava bene così come voce o torno un po più basso no la voce no 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 andava bene così non va benissimo la voce mi piace così sai cosa dobbiamo fare giancarlo dobbiamo ottenere la cosiddetta si dice la somiglianza voce volto sì ok sì forse questa voce che ho fatto adesso era più sì più adatta a lui incolla meglio io ogni tanto ti dico dei termini gergali che si usano nel doppiaggio si incolla meglio al personaggio va bene andiamo viviamo in un mondo cinico un mondo cinico lavoriamo in un ambiente di persone fortemente competitive io ti amo io ti amo completi io dovevo proprio io ti amo era molto buono la prima parte pure non era viviamo in un mondo cinico un mondo cinico funzionava dove siamo stati un po' stonati è qua se è aumentato troppo di tono e poi se eri un po' piagnucoloso ok non è piagnucoloso lui è amareggiato è ferito è colpito è un uomo ferito ok ok sai una cosa il sottotesto di questa di questa prima parte è io ti chiedo scusa perché perché non avendo visto il film comunque lui praticamente si fa prendere da si fa travolgere da questo mondo in cui lui deve per forza guadagnare dei soldi se no non vale niente non vale niente deve seguire come procuratore sportivo questo giocatore che poi diventerà il suo migliore amico quindi è lui come se si giustificasse e diceva io ti chiedo scusa un'altra cosa importante Giancarlo è che quando tu vuoi recitare un testo una cosa che mi hanno insegnato è che tu lo devi pensare ma quello che tu dici non l'hai pensato lo stai leggendo ma teoricamente è il frutto di un pensiero precede quello che dici allora cerca di immedesimarti nel cerca di trovare quel pensiero sì sì e come si fa a cercare quel pensiero con il sottotesto se il sottotesto è ti chiedo scusa allora in questo caso tu potresti anche mentalmente dirti ti chiedo scusa perché ti chiedo scusa ma viviamo in un mondo cinico un mondo cinico e purtroppo purtroppo in un mondo cinico un mondo cinico e purtroppo lavoriamo in un ambiente di persone fortemente competitive cioè scusami mi sono trovato in difficoltà ti ho ignorato non ti ho dato la giusta attenzione perché lavoriamo in un ambiente di persone fortemente competitive non è è anche colpa mia però credimi ogni giorno mi trovo a combattere con tutto questo esercito di persone arroganti e prevaricatrici va bene? andiamo allora la rifacciamo vado viviamo in un mondo un mondo cinico un mondo cinico un mondo cinico e noi lavoriamo in un negozio di forti competitori no quando sbagli devi andare avanti però ci ho pensato dopo se non ti stoppo vai avanti vai sempre avanti sai perché? sai perché? vabbè se sbagli proprio completamente ti fermano e vabbè però se tu vai avanti succede che posso non puoi fare gli incastri cioè come fai tu quando fai l'editing no? ti prendi il meglio di qua e il meglio di là allora poi ci sono sentimi dovresti prendere dalla seconda mi prendi la prima parte e dalla terza mi prendi la seconda parte ok? quindi se tu se non ti fermano se non ti fermano vai avanti perché magari ti esce meglio il resto se ti fermano ti fermi ok? ok vado? si viviamo in un mondo cinico un mondo cinico e lavoriamo in un ambiente di persone fortemente competitive io ti amo io? tu? tu mi completi e io dovevo proprio solo ehm nella prima parte ok diciamo che fino a ehm ehm all'ambiente competitivo ce la facciamo qua però mi completi mi è risultato un po' stonata risentiamo io ti amo tu? tu Tu mi completi 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 tu mi tu aspetta tu mi completi tu mi train sentiamolo ecco fa una piccola pausa no? Ok, perché praticamente tu fai Aspetta, sentiamo Ecco, qua siamo fottuti Perché praticamente che ti dice? Dice you e poi non dice un'altra volta you Però io ho rispettato la traduzione In italiano l'adattamento E qui dovrebbe esserci un tu di troppo Perché forse complete me Per il sync era più giusto Tu mi completi Allora però lo devi fare un po' più lento Tu mi completi Ok? Sì Proviamo a fare questa parte qua Alla via Io ti amo You Tu Completi Tu mi completi Troppo Troppo Gianca Troppo lento Troppo distesa Un po' più stretta Ok Va bene Vai Io ti amo Tu? Tu? Tu Completi Tu mi completi Io dovevo proprio Io dovevo Qua è proprio È velocissima La voce è sempre la stessa Io dovevo Io dovevo proprio Io dovevo proprio Io dovevo proprio Smettila Io dovevo Io dovevo proprio Ok Io ti amo Io ti amo Mi completi Adesso Un po' più alta Leggermente Un po' di mezzo tono Più elevato E poi tu mi completi Ritorna un'altra volta Bassa Nella stessa Lo stesso volume Di Io ti amo Ma tu parli Di tono O di volume No di volume Quindi tu Un pochettino Più forte E poi tu mi completi Di nuovo Un po' più piano Ok 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 Di nuovo Io ti amo Tu 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 Non lo completi Io dovevo proprio Ok Ok Molto meglio Adesso vediamo Se riusciamo a farla Tutta di seguito Perché la stiamo facendo A pezzettini Sì E proviamo dall'inizio In un mondo cinico Un mondo cinico E lavoriamo in un ambiente Di persone fortemente Competitive Io ti amo Io ti amo Tu Tu mi completi Ma Allora La sensazione È che Hai perso La leggerezza Che c'avevi prima Sei diventato Di nuovo Troppo bassa Troppo grave La voce Va bene Ci hai fatto caso? Sì Un po' sì Ok Ok Alleggerisciti Un po' di più Va bene Ok Viviamo in un mondo cinico Un mondo cinico Un mondo cinico Troppo Troppo biannogoloso Qua però Sì sì Ok Viviamo in un mondo cinico Un mondo cinico E lavoriamo in un business Di persone fortemente Competitive Io ti amo Io ti amo Mi completi Io lo bevo proprio Ok Ok Molto meglio Molto meglio Qualche Vuoi provare a metterci anche un po' di fiati? Sì Ok A renderlo più Più vivo? Sì Nel senso che Ricordati un elemento fondamentale Nel doppiaggio E in tutto ciò Che comunque è una manifestazione Della nostra Vita sonora È quello di respirare E siccome La bravura di questi Di quelli che fanno l'audio Di questi Telefilm americani Film eccetera È proprio di cogliere Qualsiasi sfumatura Della voce Quindi sembra proprio che il microfono Ce l'ha in bocca Quindi in realtà è la presa diretta Poi ci avrà una combinazione Tra un radiomicrofono Probabilmente che porta Un collarino Possibile Oppure soltanto La presa diretta Cioè del microfono direzionale Che tu non vedi Ma che è rivolto Verso l'alto Dall'alto Verso il basso Dall'assi Sì Esagerare Andiamo Ecco Vedi Vedi che la prende Prende aria Sì Fallo sentire Ok Viviamo in un mondo cinico Un mondo Cinico Lavoriamo in un ambiente Di persone fortemente Competitive Io ti amo Io ti amo Tu Tu mi completi Allora Non ho sentito tanti fiati però Quelli che vedo Non so se farne in più No ma non è che Ma aspetta sì Sì mi sono Mi spiego meglio Allora all'inizio Sì Non è che dobbiamo riempire di fiati Soltanto poi alla fine Quando la saluta Quando va via Va fuori campo Sì c'è quello lì C'è quello lì Che è importante Mi spiego meglio All'inizio guarda Lui fa una cosa con le spalle però Sì Ecco capito Sì Prende Prende aria Per prendere anche coraggio Sì Viviamo in un mondo cinico Un mondo Cinico E lavoriamo in un mondo fortemente Competitivo Ok Alleggerisciti un po' Ok Viviamo in un mondo cinico Un mondo cinico Ecco però Un po' più di Mi piaceva più prima Come la facevi Che succede? Vai troppo sul fiato adesso Non si sente la tua voce Allora facciamolo a vuoto Ok Dobbiamo trovare la tua voce giusta Fai questa qua Così Viviamo in un mondo cinico Un mondo Cinico Di nuovo Fammi sentire Viviamo in un mondo cinico Un po' più leggero Un po' più Un po' più Un po' più di testa Ecco Ok Viviamo in un mondo cinico Un mondo cinico Ok La riesci a memorizzare questa? Rifarla? Ok Viviamo in un mondo cinico Un mondo cinico Eh Ok Mi sembra che È più giusta Allora fammela Fammi il mondo cinico E poi fammi pure l'altra Lavoriamo in un ambiente di persone Fortemente competitive E mo' sei troppo Mo' sei Sei poco credibile Ok Quindi Abbiamo detto Voce un po' più di testa E lavoriamo in un ambiente di persone Fortemente Competitive Lavoriamo in un ambiente di persone Fortemente Competitive Ok Mi piace Poi Andiamo avanti Io ti amo Io ti amo Io ti amo Io ti amo Tu 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 mi completi Ok Io ti amo Tu Mi completi Ok Io ti amo Io ti amo Più Io ti amo Io ti amo Tu 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 mi completi Tu mi completi Ok Tu mi completi Tu mi completi Ok Perfetto E io E io dovevo proprio Io dovevo proprio Io dovevo proprio Io dovevo proprio Qua è veloce E io dovevo proprio Io dovevo proprio Io non c'è bisogno di fare Io dovevo proprio Cioè non c'era Ma lui lì qua si lamenta per quello Cioè sta piangendo quasi E sentiamo E io dovevo E io dovevo E io dovevo E io dovevo proprio Ok Va bene ci sta Perché lui è molto E molto pentito Ok Sì Va bene Ok Arriva ciao Viviamo in un mondo cinico Un mondo cinico E lavoriamo in un ambiente di persone fortemente competitive I love you Io ti amo You Tu 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 mi completi And I just Guys shut up Just shut up You had me at hello You had me at hello Ok Va bene Fammi Ecco Adesso fammi tutto quanto Fammi sentire i respiri L'abbraccio Ok Ok Facciamolo più completo Viviamo in un mondo cinico Un mondo cinico Un mondo cinico E lavoriamo in un business di persone fortemente competitive I love you I love you You Tu Complete me E mi completi E mi sentire i respiri E mi sentire i respiri I just Just shut up You had me at hello You had me at hello Ok 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 Va bene Diamo ancora più importanza ai respiri Facciamoli più presenti Poi dopo loro li possono abbassare Ok Arrivacciamo Vi viviamo in un mondo cinico Un mondo cinico E lavoriamo in un ambiente di persone fortemente competitive I love you Io ti amo You Complete me E mi completi And I just And I just Just shut up You had me at hello You had me at hello Ok Ok L'unica cosa che ho notato è che nel tu sei stato troppo simile a io ti amo Invece la devi essere È vero un po' più alto Devo fare un'ultima volta? Eh no Pronto? Ok We live in a cynical world A cynical world And we work in a business of tough competitors I love you Io ti amo You Tu Complete me No mi completi And I just Had Shut up Just shut up You had me at hello You had me at hello Ok 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 Io credo che per il momento questo è il massimo che possiamo fare E comunque mi sembra un buon risultato come prima esperienza eccetera E poi Sai quello che fa la discriminante è una mediazione tra ciò che è Tra ciò che tu puoi fare Tra quello che sta là dietro e quello che vuole E nella sua capoccia soprattutto devi entrare nella capoccia di quello che sta dietro di te Quella è la cosa più complicata Perché se quello che sta dietro lo conosci bene E ti è familiare nel modo in cui lui ti comunica le cose E c'è già un feeling E allora E allora è più facile Ma molto spesso invece ti trovi a che fare con persone che Non hanno tempo Devono fare in fretta Non vogliono perdere tempo Non sanno spiegare Eh E quindi Purtroppo Viviamo in un ambiente In un mondo cinico Cioè quello dei doppiatori è veramente un mondo cinico E fortemente competitivo E fortemente competitivo Ma anche una rottura di coglioni Perché comunque non si fa mai una cosa col sorriso Mamma mi pare che stiamo facendo chissà che cosa Tu sai perché Le persone che lavorano nell'audiovisivo Pare un esempio che stanno facendo delle cose importanti Ma allora uno medico è una persona Un chirurgo Chillo che sta al pronto soccorso Ma che ha da fare allora? Eh Allora cos'è? Un eroe Eh Vuoi mettere? No? Eh E allora un po' più di tranquillità Non stiamo facendo niente Stiamo intrattenendo Stiamo facendo delle cose che Che aiutano le persone a sollevare gli animi A raccontare una storia Che ci può Trasferire dei sentimenti Delle cose Ma non stiamo facendo nessuna operazione a cuore aperto Non è che da noi dipende la vita delle persone Quindi Siamo soltanto un pallido puntino blu In una grande arena cosmica Te la ricordi? Carl Sagan? Eh vabbè Comunque Nessuno lo capisce questo E' difficile farlo intuirlo Allora Giancarlo Credo che Dimmi tu Domande? Vuoi fare un'altra volta? Sei soddisfatto? Ma Io sono abbastanza soddisfatto Io penso che la cosa più importante adesso sia rivederti Sì E riascoltarti Credo che abbiamo analizzato un po' tutto Poi ogni tanto te lo puoi provare a rifare Ecco Ti invito A rifarlo Però con Incidendolo Con In maniera pulita Adesso l'abbiamo sentito attraverso Zoom Ovviamente Con il tuo microfono Ok Però comunque abbiamo una qualità più bassa Sì Allora io ti posso passare la clip Anzi lo faccio subito In maniera tale che tu puoi eserciare Anche per conto tuo Poi ti volevo ricordare dell'articolazione ritmica anche Eh però la dobbiamo fare La dobbiamo fare Sì L'articolazione ritmica la dobbiamo fare Il momento in cui Ci prepariamo A A fare un dialogo più lungo Ok Perché dobbiamo sicuramente aumentare la tua capacità di articolare In maniera veloce Seguendo il ritmo Sì Ok Quindi Appena facciamo un dialogo più lungo Tanto me lo ricordo Però ricordo anche tu Allora l'articolazione ritmica la facciamo adesso E siamo pronti Dobbiamo fare Ok Ok Allora facciamo una cosa Mo io ti mando un po' di clip Va bene E ti mando Jerry Maguire In inglese E in italiano Poi attenzione Ti do Ti do un bonus Ti do una scena molto piccola Ma molto difficile Perché lavora Devi lavorare Ancora una volta sulle emozioni Ti do la scena finale di Ghost L'avrai visto Ghost? Sì Sì certo Ok E quello è un film D'amore Anche quello che è Tostarello Però Sì Ok Ok Quindi tu anche là C'hai lo stesso Lo stesso discorso Se vuoi lo facciamo anche un attimo al volo E così te la faccio vedere Così poi puoi esercitarti a casa D'accordo? Ok Allora la tua mail è Gianca Me la dici al volo? Giancarlo? G. Ah no G. 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 Te le sto inviando Ma adesso al volo Ti faccio vedere Ghost in inglese E in italiano Così ti puoi esercitare a casa Va bene Va bene? Mhm Allora Condividi schermo Lo vedi? Cioè è nero? Sì Ok Allora 3 2 1 Eccoci I love you Molly I've always loved you Ditto E' un'ottima cosa, Molly. Il amico dentro. E prenderlo con te. Arrivederci. Questo è proprio, guarda, mi succede nella vita, eh? Penso un po' che io mi sono basato, ho pensato sempre che l'amore fosse venuto. Pensa che stronzata che ho fatto. Portaccio. Questo è proprio Hollywood, eh? Questo film è proprio Hollywood. Ah beh, però non c'è sta, insomma. Sì, no, ti crea quella situazione, sai, questo sentimento. Eh, lo so, è possibile. Assoluto. Assoluto. Allora, guarda Giancarlo, questo qui, adesso, Patrick Swayze, ha una voce doppia come la tua. Quindi qua non ti devi alleggerire, anzi, semmai devi utilizzare le tue sonorità. Adesso te lo faccio provare, poi ti alleni a casa e la prossima volta cominciamo con questa. E poi andiamo avanti. Ok. Partiamo già da un esercizio che tu hai fatto. Ok. Vediamo. Lo devo provare? Sì, sì. Oh, ok. Ok. See you next time. I've always loved you. Sempre amato tanto. Ditto. È meraviglioso, Molly. L'amore che porti dentro. Tienilo con te. Sia. Oddio. Sia. Anonymi. Eh, su cavolo, ti voglio... Ok. Allora, guarda. Non male, però... Proviamo. Allora, prima battuta. Ti amo, Molly. Ti amo, Molly. Ti amo, Molly. Ti amo, Molly. È meraviglioso, 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 Molly. È emerso in quella... In quell'atmosfera paradisiaca. È meraviglioso, Molly. 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 Sia. Adio. Sia. Sia. Ok. Ti è piaciuta questa chicca finale? Questa fa proprio venire con la pelle d'oca. La pelle d'oca, lo so, lo so. Eh, sapessi che pelle d'oca. La pelle dell'asino, altri che pelle d'oca. Eh già, lo so, lo so. L'asino d'oro di Apuleio. Senti una cosa, caro Giancarlo, credo che abbiamo fatto una bella lezione oggi. Sei contento? Bella, molto bella. Sì. Allora, stiamo entrando nel meraviglioso mondo del doppiaggio. È così meraviglioso che è così lungo che comunque richiede almeno le prossime due lezioni, se vuoi proseguire col doppiaggio. Assolutamente sì. Vediamo appunto quando ti senti pronto, dici, beh, ok, ho assimilato tutto. Ovviamente ogni volta avrai difficoltà differenti. Certo. Quindi io ti farò... Ma io le farei anche tutte le lezioni di questo corso sul doppiaggio. Allora, facciamo il percorso. Sicuramente ce ne abbiamo tante di cose da fare e sul doppiaggio vedrai... Tanto so che tu hai tanti, tanti pezzi, vero, diversi, ne hai un sacco. Assolutamente. Ogni volta... Di lavoro da fare... Aumento la difficoltà. Ok. Quindi tutto questo ovviamente è un corso di doppiaggio base, sperimentale, dove però io ti sto dando tante indicazioni che certamente ti daranno un vantaggio competitivo quando andrai in sala e comunque poi la sala ti porta ad avere un'ambientazione differente. Ma almeno però sai di cosa stiamo parlando. Certo. E lo sai pure bene, perché stai portando sullo schermo la tua voce con delle emozioni. E quindi il sync ti sarà più familiare, più impari la tecnica del sync, più sarà... E entrerai in secondo piano e privilegerai, come ti dicevo, le intonazioni e le emozioni. Va bene? Bene. Allora facciamo così. Adesso io faccio una... scarico, faccio la conversione insomma di questo audio, di questo video, te lo mando e così tu puoi rivederti e sperimentare. Noi quando ci rivediamo la prossima volta per la seconda lezione di doppiaggio? Quando puoi? Allora, per me va bene sempre mercoledì o giovedì. Allora, per te parliamo del 6, mercoledì o mercoledì? Per il momento ci possiamo vedere intorno alle 11, se vuoi. Sì, ottimo. Va bene, allora mi segno Giancarlo alle 11. Ottimo. Va bene. E questa sarebbe la seconda del doppiaggio, chiamamolo così questo corso, va bene? Sì, d'accordo. Ok. Va bene Giancarlo. Allora ti abbraccio. Bene, ti ringrazio. Ma grazie a te. A te e buon proseguimento, buone lezioni. Buon proseguimento, se vuoi mandarmi qualche cosa. Quando ho fatto qualcosa te le invio. Ok, mandamelo con l'audio pulito. Con l'audio pulito, sì. Così, per sentire le sonorità. Ti abbini al video, però mi mandi l'inciso, la registrazione con l'audio pulito. Va bene. Ok. Che hai fatto? Hai visto? Interessante. Adesso sono nel doppiaggio. Ti appassionerà, vedrai che sarà sempre più intrigante. Poi con tutte le clip che ti darò avrai voglia di esercitarti, finché poi troverai anche tu delle altre cose su cui farlo. Però basiamoci prima. Adesso pian piano le difficoltà aumenteranno. Certo. Cioè, la difficoltà, al momento ti sto alleggerendo la difficoltà perché ti sto mettendo i sottotitoli. Poi la prossima lezione pure ci saranno i sottotitoli, però a un certo punto spariranno. Ti darò il testo e tu dovrai essere bravo. Mi raccomando, tu ce l'hai la stampante a disposizione? In casa no, dai miei, vado dai miei e stampo. Comunque mi organizzo io per stampare. Però non posso sul momento, ecco. Cioè, se tu mi mandi una cosa da lezione, non posso sul momento stamparla. La devo tenere a schermo. Però la puoi leggere sul cellulare se ti mando il pdf. Sì, certo. La stessa cosa. Adesso sì, i copioni stanno sul tablet. No, ma assolutamente. Ma anche sullo schermo qua, io ho uno schermo grande, no? Quello con cui ti sto parlando adesso. Però ti devo far vedere il video. Sì, ma lo tengo a fianco perché ho uno schermo grande. Ah, va bene, perfetto. Quindi a destra tengo il testo e a sinistra il video. Benissimo, ottimo, ottimo. In realtà, vabbè, poi dopo faremo te. Sarebbe meglio che tu ce la vissi sul cellulare perché ti restarei sopra e giù. Eventualmente mi prendo il cellulare, sì, sì. Ho il tablet. Ho il tablet, sì. E ci siamo. Ok? Va bene. Va bene, sono contento. Ok. Siamo iniziando per il corso. Ok? Vale la pena, vale la pena farlo. Ok? Ok, alla prossima. Continua a esercitarti. Cominci a fare quelle demo, così me le fai ascoltare. Va bene. Va bene? Ok. Ti abbraccio Gianca, stai bene. Ciao. Ciao. E con me, Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Vedi, l'unica cosa che si sa c'è. Eh, perfetto. Spreggen sie deutsch. Esatto. Verboten, verboten. 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 Verboten, verboten. E poi aspetta. Aktung, aktung. Vabbè, le solite cose che si sentono nei film nazisti. Kartoffeln. Kartoffeln. E patate, va bene. E patate e fasulla 25 litri. Sì, bravo. Si dice, e patate e fasulla 25 litri. Ma sei scesa a Napoli in questo periodo? Sono, tornerò credo a Pasqua. No, sono stato a Gennaio. No, sono stato, però... Eh, io guardo a Napoli, ci sono molto legato. Sono stato un po' di volte, è fantastico. Vabbè, io quando stavo a Roma, quando vivevo a Roma, per un periodo scendevo a Napoli per mangiarmi la pizza. Per mangiarti la pizza. E tornavo a Roma. Ah, addirittura. Ho fatto queste cose qua più volte. Se qualcuno dice, andiamo a prenderci un caffè a Napoli, ammazzo. Ebbè, a quel punto mangiavo la pizza, mi bevevo il caffè. E sono d'accordo. Andavo da Michele, mi facevo quelle tre ore di coda e poi tornavo. E poi tornavo. Ah, bravo, bravo. Fa piacere. Va bene, va bene. Perché adesso tu... Aspetta, tu dove sei esattamente? Sto a Udine adesso, no? Ora che devo fare? Ora sono più vicino alla Germania che a Napoli, sicuramente. Lo sai che sto iniziando a fare un tour per l'Italia? Ho visto, sì. Ah, hai visto? Ho visto. E farò una tappa a Padova, credo. A Padova. L'ho visto anche questo. Infatti adesso vediamo se riesco. Eh, dai, dai. Magari, ovviamente... Così ci vediamo di persona una volta. Ti farò... Ti faccio un prezzo di favore per quelli che fanno il corso con me. Eh. Ed è interessante perché saranno tre giorni di sperimentazione. In realtà faremo un po' il riepilogo di tutto quello che ci siamo detti nel primo livello, però ci confronteremo poi in sala. E quindi sarà anche un modo per rivivere tutto quello che ci siamo detti in tre giorni intensivi e poi ci sarà la terzo giorno dedicato anche a fare delle sperimentazioni sul palco con il microfono. Va bene? Ok. Va bene. Allora, ti abbraccio. Grazie altrettanto. Ciao, ciao. Ciao, 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 ciao.